I studi di TV City, l'assessore del comune editore del greco Enrico Pensati, tante le novità che a breve nei prossimi mesi riguardano il suo assessorato, tante le iniziative che partiranno e i progetti che vedremo realizzati. Cominciamo da Vulcano 4S sabato a Palazzo Baronale, la conferenza di presentazione, tre mesi di eventi per Torre del Greco. È una bella soddisfazione per la nostra città perché questo è un progetto che è stato interamente finanziato da città metropolitana. Doveva partire già qualche tempo fa, poi causa emergenza Covid, emergenza sanitaria, abbiamo dovuto rinviarlo più volte e rivedere il programma più volte. Avremo in città nomi noti dello spettacolo napoletano, penso a Gragnaniello, a Tony Esposito e a tanti altri artisti. È un progetto importante, tre mesi di eventi che andranno lungo tutto il territorio cittadino, dalla tendostruttura di San Vincenzo a Possiglione, al Teatro Sant'Anna, alla chiesa di Sant'Antonio da Padova, diverse strutture anche comunali, Villa Macrina. Un bel momento, un momento importante per ripartire. Un grande progetto, sappiamo, riguarda i locali dell'ex pretura, quindi oggi parliamo di eventi ma parliamo anche di cultura e qui che sorgerà proprio un centro polifunzionale che in questa città è stato desiderato da tanti anni. Un sogno nel cassetto, era la cittadella della cultura da quando ho avuto la delega a questo segmento importante per la nostra città. Insieme ai consiglieri, Lucia Vitiello, Michele Lengella, abbiamo sempre puntato sulla ex pretura come cittadella della cultura. Avere la ex pretura come cittadella della cultura significa dare risposte a tante associazioni che fanno quotidianamente cultura sul nostro territorio e che non hanno una sede. Avremo a Piano Terra anche un laboratorio teatrale. Sarà un momento anche per dare forza ai nostri giovani, per misurarsi con una realtà bellissima che loro amano tantissimo, che è quello di fare teatro, di fare musica, di fare arte, di fare pittura. I tempi per vedere realizzato questo sogno? Al mese di luglio dovremo avere in giunta l'approvazione del progetto definitivo e quindi subito dopo le procedure di appalto si avvieranno i lavori. Io credo che nell'arco di 8-10 mesi, massimo un anno, avremo finalmente realizzato in questa città la cittadella della cultura. Prima parlavamo di Villa Macrina e di eventi, ma per questo sito ci sono in programma anche altre iniziative. Ci sarà un infopoint a Villa Macrina? Stiamo provando a rilanciare definitivamente Villa Macrina. Villa Macrina in questo momento è la sede della biblioteca. Abbiamo chiaramente, l'abbiamo detto e ridetto, carenza di personale. In questo momento la biblioteca sta lavorando a ritmo ridotto fino alle 14. Ho invitato nella nostra città, e spero che possa venire la settimana prossima, il direttore regionale dell'Agenzia del Turismo di Regione Campania. L'obiettivo è quello di creare un infopoint turistico nella nostra città. L'importante è la risorsa mare per quanto mi riguarda, l'importante è il progetto di Gori, Regione Campania. Se mi consentite di dire, grazie anche all'impegno del Comune di Torre del Greco e dei cittadini di Torre del Greco, la periferia sa cosa significa tenere via nazionale completamente intasata dal traffico. Un sacrificio che stiamo facendo per cercare di recuperare una risorsa importante, perché per parlare di turismo dobbiamo avere l'elemento essenziale, che è sicuramente il mare, troppo che è una città di mare. Tra le sue dele, che lo ricordiamo, anche quella è la pubblica istruzione massima, infatti, e l'attenzione per le scuole di questo territorio. E tra i progetti in cantiere è quello di realizzare uno spazio dedicato alla lettura all'Istituto di Nicola Sasso. Abbiamo partecipato anche qui ad un mando di Regione Campania e di Fondazione Polis. Il nostro progetto, grazie anche alla collaborazione di un'associazione del territorio, della dottoressa Maria Sannino, che ringrazio, avremo l'opportunità di realizzare un punto letturo aperto alla città. Per le scuole, per il secondo anno consecutivo, abbiamo finanziato la formazione extra didattica, con fondi importanti, e ne abbiamo visto immediatamente i risultati. Aule green, laboratori multimediali, riappropriazione di spazi esterni da parte delle scuole del territorio. C'è un cruccio, ma è mio personale, in questi giorni ne ho parlato anche con il sindaco, ed è legato alla scuola Orsi. Finalmente, l'architetto D'Angelo ci ha illustrato il progetto definitivo. Vanno sicuramente reperiti i fondi per la realizzazione, perché sono fondi importanti, un milione e sette, un milione e otto. Come già ha detto ampiamente il sindaco, ha più in più occasione. Se verranno da enti sovordinati, bene, altrimenti se ne farà carico il Comune. E da questo punto di vista dobbiamo restituire, a mio avviso, dignità ad una platea scolastica per troppi anni, ancora mortificata da una situazione di arretratezza che non depone assolutamente bene. A proposito di scuole, un grande evento coinvolgerà le scuole il prossimo 23 maggio per parlare di legalità. 23, 24 e 25 maggio ricorrono i 30 anni delle stragi di Capaci, dove persero la vita i magistrati Falcone e poi successivamente Borsellino. Abbiamo immaginato di ricordare due uomini dello Stato che hanno saputo scegliere da che parte stare e lo vogliamo fare con delle manifestazioni importanti. Partiamo il 23 maggio con un convegno. Abbiamo già avuto la disponibilità del già procuratore nazionale antimafia, Cafiero De Rao. Avremo imprenditori sotto scorta, avremo giornalisti, avremo sicuramente i fari dei media nazionali puntati per tre giorni su Torre del Greco. Perché il 24 maggio invece al Teatro Corallo immaginiamo di coinvolgere le scuole del territorio. Arriveranno i ragazzi di tutte le nostre scuole con una maglietta bianca con le immagini di Falcone e Borsellino. Avremo un raduno a Piazzale della Repubblica e poi insieme a piedi arriveremo al Teatro Corallo. Il giorno 25 invece ci sarà la premiazione di un concorso che abbiamo lanciato in questi giorni. Il bando che troverete sul sito del Comune è Cultura e Legalità, dove ci aspettiamo che ci possano essere dei progetti, delle idee su questa tematica da parte delle scuole. I primi tre istituti che verranno valutati da una commissione diciamo indipendente riceveranno un premio a Palazzo Baronale che consegnerà direttamente il Sindaco. Chiudiamo questo approfondimento con l'assessore Enrico Pensati parlando di PNR. Ieri il Consiglio Comunale monotematico, che cosa è stato deciso? È stato un Consiglio Comunale proficuo. Abbiamo avuto la partecipazione di tanti nostri concittadini che hanno posto sul campo delle idee importanti. C'è stata la relazione da parte dell'amministrazione su quelli che sono i fondi PNR già con i quali abbiamo aderito e che abbiamo ottenuto. Penso ad esempio alla Via Litorania, un progetto da 8 milioni e mezzo di euro che ci verrà finanziato. Penso anche qui al grande progetto della Cittadella dello Sport, all'edilizia residenziale in zona Via Lamare, al recupero di diverse strutture. C'è stata un'apertura di credito da parte delle minoranze su una tematica così importante, l'appello anche del Sindaco. Abbiamo ancora un anno prima delle prossime elezioni. Quindi spero che davvero all'unisono insieme si possa lavorare e si possano portare a casa più soldi possibili nell'interesse della città di Torre del Greco.